Cari amici, oggi abbiamo avuto l'onore di essere stati accolti nella bellissima casa della regina del circo una donna meravigliosa, amata da piccoli e da grandi, la nostra Moira Orfei, buonasera Grazie, sei troppo gentile Come lei, come lei d'altronde Amata da tutti, non credo, se fosse vero sarei contenta Secondo me è amata da tanti, 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 non diciamo tutti ma tanti, ma che forse è meglio Io le volevo fare una domanda che, anzi, nelle sue numerose interviste che ha rilasciato nella sua carriera sicuramente non c'è stata una domanda che gli hanno posto, che lei avrebbe voluto che le facessero Qual è questa domanda? Una domanda che non hanno mai posto a Moira Orfei, che avrebbe voluto che le facessero Una curiosità magari Ti dirò che me ne hanno fatte tante domande, che non ho nessuna domanda da dire, non mi hanno domandato questo Sai cosa mi dà fastidio? Quando mi chiedono, scusa, ma ho perso la voce Ma quanti anni ha la Moira? Ma che ce ne frega loro quanti anni ho io? Ho gli anni che dimostro Certo, quindi trenta Magari, grazie Allora, invece, qual è il primo pensiero di Moira Orfei al mattino? A chi va il suo primo pensiero? Ai miei nipotini, ne ho quattro, tre da mia figlia Lara e uno da mio figlio Stefano Che sono bravissimi, stasera le abbiamo viste esibire, che cosa prova quando li vede esibire sulla pista? Le voglio un bene, le mangerei, guarda, le mangerei, davvero Allora, lei, la sua vita è una vita in movimento, diciamo Qual è la cosa più interessante di questo modo di vivere? Diciamo che la cosa più interessante è che non ti annoia mai Non ti annoia perché viaggi, vedi, non so, Milano, Roma, Torino, Genova, tutte le città, anche all'estero Allora, nella verità ne ho fatti più film all'estero che col circo Perché andavo solo io, invece col circo, bisogna che ci vanno 100 carri Però, cosa stavo dicendo? Qual è il suo modo di vivere? Nel circo, che diventi vecchia senza che te ne accorgi Perché è una vita così, diciamo, forte, una vita che... Movimentata C'è sempre una sorpresa, diciamo, in questo modo di vivere E c'è la gente che viene, il circo, la musica, lo spettacolo E parli con tutti perché è come un piccolo villaggio questo, no? Certo, e la città italiana o estera a cui magari è più affezionata Che le ha dato di più nella sua carriera? Una città italiana oppure... No, 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 guarda, tutte le città per me sono uguali Certo Io vado a Napoli, Roma, Milano, Torino, per me sono tutti uguali Genova, non c'è differenza, nemmeno all'estero Allora, la sua vita è spettacolo Lei, diciamo, fa divertire il pubblico La sua famiglia fa divertire il pubblico Ma cos'è che fa divertire Moira Orfei? Che cosa va a vedere lei per divertirsi? Io per divertirsi vado a vedere un bellissimo film, se c'è Poi niente, guardo la televisione, sono molto teledipendente Perché fra lo spettacolo, aspettare che viene la gente Vestirmi, spogliarmi, andare in pista Niente, guardo la televisione, cinema e teatro Ecco, lei ha parlato di cinema Sappiamo che lei vanta una lunga carriera cinematografica Facciamo un piccolo flashback Un ricordo di cui vuole parlarci Una curiosità della sua carriera cinematografica A cui magari è affezionata Moira Orfei Beh, diciamo, parliamo di Totò Che è una persona molto, diciamo, molto conosciuta e molto brava E quando ho fatto il film con lui, lui mi ha detto Senti Moira, le piacevo? Eh beh, lo credo, era bellissimo Sì, mi ha detto, senti Moira Se tu vieni a letto con me, io non ti faccio niente Ti accarezzo solo E ti regalo un appartamento da 30 milioni Allora, 30 milioni, è come 300 milioni adesso Io per non farlo di manere male Le ho detto, principe, perché era veramente un principe Dico, se non amassi tanto mio marito Il primo uomo che avrei sarebbe Saresti tu C'è nato del tuo Invece, siccome lei ama tanto suo marito Eh no, eh no Anche se non lo amavo, no, con tutto no Senta, io qui ho una tigre Che rappresenta tanto per lei Secondo lei, nella vita, bisogna essere aggressivi come le tigri Per non essere aggrediti da chi magari vuole sembrare più forte di noi Oppure bisogna dare sempre la dolcezza? Con le tigri bisogna sempre dare la dolcezza Perché se tu le aggredisci, loro ti aggrediscono prima di te E invece con le persone è meglio essere prima aggressivi e dopo dolci Perché delle volte trovi delle persone false Che ti fanno Chissà cosa ti farebbero E poi alla fine ti chiedono Io do, io aiuto Senza voler dire niente Indietro Alla fine cosa ti trovi? Una pugnalata nella schiena È vero, è vero Che bella cosa che ha detto Quello che le tigri non fanno Le tigri fanno Ci dai da mangiare e basta, poverine Per me sono come figli le tigri e leoni Suo figlio è un domatore È un grande domatore Grandissimo Ha paura quando fa questo Io non lo guardo mai Non vado mai a vedere mio figlio e mio marito fare il numero delle tigri e dei leoni Mai, mai Sto in casa, ascolto la musica E se la musica cambia qualche cosa Mi viene subito il batticuore Perché penso Mamma mia Per l'amor di Dio Cos'è successo? Chiedo Cos'è successo? Ma niente, moira, calmati Ecco, questo è vero Io non vado mai a vedere mio figlio Sì Invece che rapporto ha con Brigitta? Lui ho sposato con Brigitta Ah lo so, dico lei che rapporto ha con Brigitta Oh bellissimo, è una ragazza meravigliosa, buona, gentile E poi ama molto il circo Sì E poi ama molto mio figlio Che è quello che vale Sì Perché se non amasse mio figlio Io non amerei lei Lei ama mio figlio E io amo lei E non sono una suocera Sono come un'amica Che bello, che bello Complimenti per questo Non è facile Io non le do dei Se fa delle cose Non le dico Non fare così Non fare cosa fa Qualche ti pare Così si va d'accordo Le posso dare un pensierino? Visto che lei è una donna Grandissima e umile Nello stesso tempo Io penso che lei apprezza le cose umili Allora, sono dei dolcetti Che ho fatto io con la mia mamma? Guarda, questa è una cosa meravigliosa Perché io amo i dolci Ah, che bello Però mi fa diventare una cicciona No, no Questo è un attacco alla mia linea Sono stata buona Ne ho portati pochi Non mi chiedi perché porto gli occhiali? No, però lo puoi dire Degli occhiali così originali? E anche bellissimi Ma ho male agli occhi Mi è venuta un'allergia Cosa ho mangiato? Non lo so Devo aver mangiato qualche cosa Che mi ha fatto male Anch'io comunque ho questi problemi Quindi non è l'unica Oppure è stato il trucco Perché io trucco molto gli occhi Però io riesco a vederli i suoi occhi Sì E sono molto belli Una piccola regina E si vede Sono molto belli Quindi non hanno nascosto La bellezza degli occhi Allora Io vorrei chiederle ancora tante cose Veramente Lei è una bella ragazza La ringrazio Mi hanno detto che farà una fiction, vero? Sì E come si chiama questa fiction? Si chiamerà l'infiltrato Perchè Noi Noi